la storia che amo di più di pazienza probabilmente perché pippo sembra uno sballato e poi zanardi tutto il ciclo delle puntate di zanardi e poi un episodio che mi era piaciuto un sacco che era uscito su linus una volta dove c'era una sorta di storia d'amore di una ragazza per un jazzista tossicomane però mi aveva colpito tantissimo perché a un certo punto pazienza disegnava una panda e probabilmente è stata la prima volta che ho visto una panda disegnata su un fumetto e questa questa cosa mi aveva lasciato il segno perché avevo rivisto un pochino di quella quell'italia di quella provincia che di solito non si vede mai nei fumetti una cosa che mi ha sempre colpito di andrea pazienza più che lo stile o il disegno è stato il modo in cui scriveva fumetti non sono soltanto il bel disegno e andrea pazienza in questo caso era un innovatore del linguaggio secondo me vignette voglio vignette oppure comunque tutto tutta la storia anche prima parlato di pippo raccontato in quella in quel modo in quel grame lotto inventato no lui riusciva a creare con poche parole una una sovranarrazione che non era testuale non era nel testo e tutte queste invenzioni sul linguaggio e secondo me non la cifra più alta di andrea pazienza quando facevo le scuole superiori tutti i miei amici disegnavano sempre new york e c'era sempre new york siamo queste città i giungle e nessuno che poi si cimentava a disegnare la panda disegnare quello che ti era intorno andrea pazienza quando ha disegnato la panda ha fatto cadere tutta quella storia l'ha fatta piombare esattamente nel quartiere dove abitavo io e questa qui era una forza è una delle forze più grandi che mi ha passato pazienza